rosalinda cannavo ha voluto condividere con i suoi fan sui social un messaggio importante frutto di un pensiero profondo la cannavo ha letteralmente spopolato negli ultimi tempi grazie alla sua partecipazione alla grande fratello vip rimanendo all'interno del giochi per bene cinque mesi un periodo davvero molto lungo in cui ha riscoperto molte cose di sé e si è fatta conoscere dal grande pubblico che adesso sembra si sia affezionato a lei in occasione della pasqua rosalinda cannavo ha voluto rilasciare sui social un pensiero molto importante la ragazza infatti non ha potuto che ricordare alcuni momenti vissuti all'interno della casa del grande fratello che per lei sono stati molto significativi in particolare ha ricordato quando hanno realizzato uno striscione con un messaggio di speranza nei confronti di una situazione difficile che stiamo vivendo a causa del coronavirus rosalinda spiega che è consapevole che anche questa pasqua sarà molto diversa rispetto al passato dovuta sicuramente alle restrizioni che si vivono per cercare di impedire la diffusione della malattia la sua mente vola a quello striscione realizzato per il pubblico in cui esortavano a stringere i denti poiché ritorneremo tutti a riabbracciarsi presto